Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni. È stata chiusa per lavori l'uscita di Empoli Est provenendo da Livorno. Per quanto riguarda le autostrade in A1 tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre in A1 per lavori, stanotte in orario 22.06 sarà chiusa l'entrata di Valdarno in direzione Roma. In A12 uscita chiusa a Sarzana provenendo da entrambe le direzioni, naturalmente siamo in Liguria. Nuoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!